Evelina, come stai? T'aspettiamo in Italia. Ma io devi dire il tagliolare. E già l'è vera, l'è vera. E' vera, l'è vera. Evelina, t'aspettiamo. E t'aspettiamo al tagliolare. Vabbè? Vabbè, Evelina. Vieni. Ciao, Evelina. Vieni al tagliolare. Io ti sento in tagliolare. E varie os? Tutti in Italia. E varie os? Sì, ho chiesto. Sì, ho chiesto. E' un video con i bambini e dire ciao, Evelina. Ciao, Evelina. Ciao, Evelina. Ciao, Evelina.